Ci puoi raccontare che cos'è la Fondazione Maruzza e quali sono i suoi obiettivi principali? La Fondazione Maruzza è stata creata dai miei genitori in memoria di mia sorella Maruzza, che è scomparsa quasi 30 anni fa per una patologia inguaribile. Abbiamo scelto le cure palliative anziché la ricerca sul cancro, che era quello di cui è deceduta mia sorella, perché abbiamo pensato che la qualità della vita delle persone nella fase fra la determinazione che la loro patologia è inguaribile e la loro scomparsa, che può essere più o meno lungo, sia una parte molto importante della vita di ciascuna persona che si trova in questa situazione.